Ok, va bene, mi sono dilungata troppo, la webcam ovviamente mi ha tagliato il primo video, stavo dicendo per quanto riguarda Avon che se volete comprare dei prodotti da me potete farlo tranquillamente perché per dei prodotti piccoli, come dicevo prima, che siano delle matite, che siano dei rossetti, che siano degli ombretti, che siano quello che volete, che hanno comunque delle confezioni piccole, o comunque delle scatoline così, potete comprare tutto quello che volete, Le spese di spedizione sono solamente di un euro, ve le spedisco ovviamente tramite posta, dentro delle buste che saranno di questa grandezza, adesso ne una di lama non la vado a prendere, le buste imbottite e le spese di spedizione sono di un euro, un euro e dieci, quindi lo potete fare tranquillamente Se avete delle cose da ordinare un po' più grosse, come magari le bottiglie di bagnoschiuma bubble bath che sono grosse così, o comunque che hanno uno spessore e che in una busta ovviamente non ci possono entrare, dovrei spedire delle scatole e costano sui due euro, due euro e trenta, quindi magari si alzano un attimino i costi, le spese di spedizione, non mi conviene quindi comprare da me delle robe del genere, Però finché comprate make up o comunque prodotti che hanno dei packaging piccolini, potete farlo tranquillamente con un euro, un euro e dieci di spese di spedizione e ve la cavate tranquillamente Quindi potete sfogliare tranquillamente il catalogo, se c'è qualcosa che vi interessa mi mandate un messaggio in privato oppure me lo scrivete nei commenti e ve lo spedisco in tutta Italia tranquillamente, non ci sono problemi Ok, con questo penso di averla fatto, adesso che ho un nuovo video, ho altri 9 minuti a disposizione, così quasi mi dilungherei ancora di più Ehm, vi voglio inquadrare la cagnolina che prima continuava a darmi fastidio, adesso vediamo se riesco a chiamarla eh, Susi, vieni, vieni qui guarda Adesso vediamo se la inquadriamo, Susi, ecco, guarda che non ti vedono, dove sei, dove sei, fai un sorriso alla telecamera No, vabbè, niente, sono riuscita ad inquadrare solamente la coda, comunque bellina bellina e piccolina, vieni qui, vieni su, vieni su Vieni su, vieni Dai, se qualcuna di voi mi sa spiegare come mai Essence costa così poco, così mi tolgo questo, questo cruccio che ho da un po' di tempo Vi mando un bacione, ciao a tutte quante